e dopo esserci potenziati a dovere e cambiato qualche pezzo di equipaggiamento perché mi ero accorto che ero ancora, cioè che ero troppo pesante se no non riesco a schivare bene direi che siamo pronti per proseguire ho l'idea che ci sia un boss, poi ho messo la falce sempre su consiglio di demonarmelo così la provo ma contro i boss direi di no perché è un po' debole rispetto alle altre armi vediamo un po' chi c'è qua siamo usciti dalla parte giusta messaggio spegni le tre fiamme e apri la porta per accedere al sangue di lupo beh direi che devo spegnere i tre falò si tu mi fai schifo io pensavo ci fosse un boss invece anche la c'è un falò vediamo questo qua è una lumaca sembra schifo aspetta è veleno proviamo la falce colpisco dalla distanza esplode no si sgonfia ecco bene corriamo ok come lo spengo per sapere eh cioè oh madonna è veramente più debole delle altre ok boh non so non so proviamo ad andare qua vediamo cosa ci dice non so perché se ci vado in mezzo brucio sicuramente la c'è un oggetto anche la vediamo proviamo a prenderlo aspetta eh qua moriamo mai madonna circondato da cose schifose come posso aspetta la c'è un oggetto ho visto dopo iniziamo da questo ok ok vai caricare il colpo già è meglio mocio vai ne ho presi due ok aia e mori pure tu cos'è maschera lacera cosa fa c'è un indumento si ma niente cioè è debolissima vabbè il carico diminuisce di sicuro ma non non ci potenzia niente cioè aspetta va che è libero libero dai mostri schifosi lo prendo frammento di titanite via 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 che qua moriamo avvelenati ecco ok andiamo su di qua peta prismatica cosa fa mostra la via quando viene posizionata per terra ah ok nel caso ti perdi tema via frammento di titanite ottimo poi ci sono gli schifi di qua vai scheggia di estus ok perfetto ciò che mi serviva così aumentiamo le fiaschette c'è un tipo ci sono altri tipi no attenzione non l'ho preso ok c'è lo scudo pure aia aspetta proviamo aia proviamo questa ouch si era bloccato un attimo aia aia oh 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 aspetta aspetta sono pure avvelenato guarda te questo avvelena mettiamo la falce no no mi ha preso mi ha preso mi ha preso non lo vedo ancora madonna schifoso è mancato è mancato anche lui aspetta qual è che passa sto veleno non lo prendo dai guarda te che sfiga dove sei ok mi dietreggia il bastardo oh è morto e mo il veleno ciao questo qua è veleno lento penso cosa dice il messaggio spegni le tre fiamme apri la porta ho capito tre fiamme quali queste forse ops se arriva un boss o nella merda ah ecco sono sulle torri le fiamme a sono sulle sono sulle sono sulle Ok, intanto sto morendo avvelenato Siamo a metà, comunque Del veleno Però rimetterei Questa, magari E pregherei pure Aspettiamo un attimo, magari Oh, madonna No, non aspettiamo No, vado via, vado via, vado via Che spavento, non l'avevo mica visto Ok Meglio Aia, aia Bastardo Ok Prego ancora Aspetta, non ho niente Contro l'avvelenamento Adesso che ci penso Inventario Ehm, no 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 Ehm, mi sa di no, eh Non è con l'ambiente No Non credo No Niente Devo aspettare che finisca Beh, adesso è quasi finito Ormai Però vorrei un falò Tanto un falò Ehm Per ricaricarmi Giusto Ecco Finito Meno male Mi curo E no, non posso Aspetta, sì che posso Ecco Adesso mi curo E speriamo in bene Ecco Cioè La cosa che mi serviva Magari me l'è andata adesso Bravi Rende velenosa Ah no Rende velenosa L'arma nella mano destra No Niente Pensavo che mi guariva E invece no Ocio Che qua No Ok Non c'è nessuno Ma il falò Quindi è Là Distante Cioè Non è distantissimo Però Ehm Aspetta C'è Sento dei rumori Via Via Preso Preso Una Un terra Datemi la terra No No Mi sto Mi sto Basta Velenata Eh ancora Eh che palle Aspettate Ok Madonna Che sfiga No Oh Oh Madonna E la Madonna Vabbè Almeno So Quello Che succede Ecco No Qua Decisamente Mi servono Armi Più Forti E Dunque No Non sono Distantissimo Eh Da dove Devo andare Aspetta A voi Vi supero Così Con la Gita E Olè Per te Aspetta Di là Di là Ok Di là C'è qualcosa Ci sono diverse cose Però veramente Avrei bisogno Di un Abito Un qualcosa Contro il veleno Perché No Non ce la faccio Ad arrivare fino là Senza Diciamo Avvelenarmi No Madonna Eh sì Allora Dov'è Ma no Fide Premo due tasti Insieme Ecco Ok Ok E dai Sti tasti Ok Oh Ce l'abbiamo fatta Eh Qua c'è il tipo Che avvelena Qua c'è l'altro Aspetta Ok Teniamo Consiglio Due mani Ecco Scudo dietro E via Noccio Ok Bene 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 Frammento Di titanite E qua È dove eravamo Rimasti Praticamente Allora c'è uno Seduto Col cavolo Che mi avvicino Dobbiamo spegnere Anche quelle Due Fiamme Cioè una è lì L'altra magari Più avanti Però qua È un bel problema Qua c'è stata la melma Odio Odio La melma Velenosa C'era anche In Bloodborne Però in Bloodborne Era evitabile Qua No Allora prima Battiamo Questo No Ancora No Ancora No 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 Mi ha preso Ma che cavolo Questa sarà Bokusella Terza volta Forse che ci Prova a battere Sto tizio Sto Coso Che adesso Non mi viene in mente Il nome Sembra Metà Uomo Metà Capra Ma lì C'ho proprio lì Le mie anime E io volevo Prenderlo Di soppiato Stavolta Vai Sono riuscito A fargli Il coso Come cavolo Si chiama Saltella pure E ce l'ho fatta Incredibile Incredibile Per Non arrivo Malamente Scelto a battere Sto coso Che ha la mania Degli abbracci Questo qua Quanto pare Mi mancherà Forse un po' Di affetto Ma Meno male Adesso è morto Tutti gli altri Io Proseguirei Ovviamente E dobbiamo Spegnere Ancora Due fiamme Cioè due torri Praticamente Però ecco Ecco Stavo giusto Dicendo Io Andrei con calma Perché Ci sono i maledetti In agguato Qua Dietro gli angoli E L'altra torre È qua Bene Ecco lì La candela Però sento Dei rumori Sospetti Sembra uno Che sta Dormendo Va Il muschio Purpureo Ok Sono andato A comprarlo Per niente Ovviamente E Adesso Spegniamo La Fiamma Oh E Due Bene 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 Manca La terza Io però Ma siete Si sembra uno Che è russa Cioè russa Fa Così E Fai Tutelo vedere Ah sono in due Sono in due Qua c'è qualcosa Vediamo Secondo me Sì Secondo me Sì E invece No No Vediamo Spaccando Queste cose Ma Questo qua Sembra A tutti gli effetti Una strada Segreta Però Cioè Non c'è niente Fanno apposta Sti maledetti Allora Io direi Che sarebbe meglio Attirarne uno alla volta Se possibile Però cadrei malamente E là c'è un falò Sì Quello mi sa Che è un falò Con le lontananza Quindi Ok Proviamo A usare No Non lo mira più Ok Usiamo I Coltelli da lancio Vai Vai Ok 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 Bene Bene Allora Facciamolo attaccare Mi ha preso Mi ha preso Mi ha preso Corriamo 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 Sarei anche stufo Di tagliare Eh Ok Qui corriamo All'impazzata All'impazzata Adesso Beh non è obbligatorio Forse E batterlo Il 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 Coso Che abbraccia Ecco Allora Qua ci sono Due tizi Ok Ecco Il primo Ok Attaccami Vai No Ok Potevo attaccare Non ne ho Approfittato Però Forse Ci è andata bene Ci è andata bene 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 Ecco Questo qua È quello di prima Questo qua Ecco Bisogna farlo Sfogare E poi Continare ad attaccare All'impazzata Perfetto Ecco Prima volevo fare così Ma Non mi è riuscito Ok Allora C'è il tipo lì Però mi sa che bisogna Per forza Passare di lì Eh Sì Sì Perché la stradina È lì Se io vado lì Mi vede Mi vede Allora Stessa tecnica Di prima Io Andrei Di Soppiatto No Bastardo Bastardo Mi allontano Mi allontano Mi allontano Bevo No è vero che non ho più il coso Ok Bevo Ma no Cazzo Allora Più 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 Eh Oh Stami Lontano Ma sto qua che vuole abbracciarmi Io non lo so Cioè Allora Ne bevo un'altra Ecco Meglio va No, non ti voglio, non ti voglio, non ti voglio Miralo, ok Niente, questo qua saldella come un matto Maledetto Occio, occio Ok Oh, mamma mia, mamma mia Prima ho avuto un culo a prenderlo alle spalle Ho fatto sprecare quasi tutte le fiaschette, io non lo so Allora, vediamo, qua ci dovrebbe essere il tipo Ecco le mie anime Aspetta, attiriamolo Aspetta, qua c'è solo lui No, 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 no No, ma guardate No, no, via, via, via Nooo E che cavolo E rieccoci qua Io volevo evitare di tagliare per l'ennesima volta Ma ho scoperto dopo che il tipo poteva essere evitato Perché lui non ti vede se gli passi comunque vicino Basta che non ti avvicini troppo E ovviamente io, magari voi, no, forse sicuramente no Non l'avete visto Ho perso ancora le mie anime Vabbè, ma questo ormai è un'abitudine Quindi non sono per niente preoccupato Qua sì, c'era il tipo Qua nascosto Questo maledetto Che prima mi ha ucciso Nonostante tutto Ecco perché Fa questi attacchi Maledetto Oh Ecco Allora Dicevamo Dicevamo Che Eh Bisogna battere questi tre tizi Per superare il punto Allora Direi che La strategia di prima Funziona Intanto per attirarne uno alla volta Terrei però le fiaschette Però stavolta sto molto lontano A parte quando attacco Però Non ti parare Non ti parare Maledetto Oh Bene Bene Il primo è andato Il primo Allora Poi Il secondo Vediamo se riesco a mirarlo No Ecco Tutte e due li ho attirati Bene Bene Volevo mirarlo Ma Quanto pare Che fai Lanci roba Ah C'hai una bella nebbia Velenosa Tu eh Ah Non ti avvicini No ma non volevo cambiare Spada Ok No Eh Torna indietro Ma vieni qua Ma io non lo so No Il maeletto Non si avvicina Più di così Più vicino No eh Proviamo a lanciargli qualcosa Tipo la bomba La bomba Linciamogli la bomba Dai Miriamolo Ce lo fa mirare Posso mirarlo No Perché non lo miri Ok E Vai Vai Ma che dove Ma no Perché si allontana Il maledetto Ecco Uh Li tolgo un po' Eh Allora Usiamo le bombe Usiamo le bombe No Due Vai Tre Och 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 E quattro Non è ancora morto Lo usiamo I coltellini Te Ecco Oh Muori Bastardo Ok Stocca a te Che tu ti avvicini Anche troppo No No Eh No Cambiato idea Oh Ciccio Ma che è Ti butto giù Fide Oh Sono qua Mi devi attaccare Se no Non posso No Ha deciso di no Oh Niente Ha deciso di no Oh Ecco Vai Scatenati Bravissimo Ok Questo Stavo aspettando Però sento sempre Qualcuno Che dorme Eh Ma dov'è Qua sotto Forse Ah Sì c'è qualcosa Lì sotto Però io non ci vado Col cavolo Che ci vado Lì c'è un bel falò Bello sicuro Tranquillo Oh Bene Bene Però Prima di riposare Perché non Se mi riposo Poi I I nemici Si ricreano Quindi vorrei evitare Andrei un attimo Avanti Tanto comunque Con 3400 anime Non ci faccio nulla Comprare roba Sì Ma Livellare No Ormai Sono poche Per livellare E vediamo Cosa c'è qua Avanti Ah C'è la porta Quella che Vedevamo nel video E allora ci manca Una Una torre Non è che l'ho superata Non me ne sono accorto O è questa Non saprei No Non è Non credo Sia questa O è più indietro L'ho superata Per sbaglio Può essere Ehm Intanto andiamo qua Ok Oh madonna Che schifo Non me l'aspettavo Sì Sputti Oh Quanti sono Vabbè Qua direi che ci vuole Una bella falciata No Figuriamoci se lo prendevo Eh però la falce Toglie veramente poco Meglio la spada Forse l'altra Ecco Tutti questi sputano Aia Vabbè me lo sputo Non avvelena Ok Vai Uno alla volta Dai Vai E' vero che anch'io Posso colpire Attraverso le pareti Quando La spada Passa Aspetta Ok Vai Sono morti Bene Gemma pesante Ah Madonna Pensavo che era morto No Ero convintissimo Che era morto Invece no E basta Sempre Ma quanti Cazzo sono Basta Avete finito Oh Scheggia Adosso Di non morto Ah Quella Quella Che si può Bruciare Al falò Ma non so Che serve Poi la Bruceremo Ma Qui c'è una Scala Con sempre I lumaconi E però Io cercavo Una Torre Che forse È là Forse È quella Probabilmente L'abbiamo Superata Aspetta Sono in piena Melma Aspetta Aspetta Pausa Aia Stardo Ok Io salgo C'è una scala Noi saliamo Così ho una visione Migliore Ecco Vediamo La Vediamo C'è Eccola lì La torre Sì sì L'ho saltata Probabilmente Vediamo Che c'è qua Un altro Un altro Falò Ma 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 Bene Ma c'è uno Che dorme Ma secondo me Non è nemico Perché Se no Non c'era il falò Quindi io Ci parlerei Un attimo Prega Puoi venirti al patto Sì Guardiani di Farron Ho ottenuto Hai ottenuto Prova del patto Ce l'ho l'erba lama Non credo Non ce l'ho Ok Quindi abbiamo ricevuto Un altro patto Che non so Non ho capito A cosa servono Ma io terrei Questo qua Del lupo Eh Che è più figo Magari Va bene Va bene Qua c'è Una leva Con l'ascensore Si va su Oh Io ho paura Ma Cioè c'era già il sole Anche Se non è illuminato Ma qua andiamo proprio In un'altra zona Mi sa Eh Ma non mi piace Lasciare a metà Le cose Io Tornerai indietro No Perché non mi piace Appunto E' dispersi Eh E' molto dispersivo Sto gioco Però devo comunque Scegliere una strada Se no Non capisco Già Non dico No Non è che non si capisce niente Però già è molto confuso Con tutte ste strade Ecco Là c'era qualcosa Ma non so come arrivarci Forse da qua dietro Vediamo Vediamo Può essere C'è una scaletta Scala Ah là c'è un coso Un coso Lo prendo Lo prendo Vai Preso Titanite scintillante Ma ottimo Quella che ci serviva Per questa spada Eh Però Sto facendo il giro Praticamente Eh io spegnerei Prima la terza fiamma Eh no Ho fatto il giro Ma Ma di entrate Non ne ho viste Va bene Allora scendiamo Non ho ancora riposato Quindi i mostri Non dovrebbero esserci Ok Allora Andiamo verso La torre Che abbiamo visto essere Da quella parte Via Madonna Prendiamo Framenti Titanite Bene Ecco E' da quella parte Oh Oh Ah madonna Cos'è quel coso Eh no eh Cioè io passavo di qua Per i fatti miei Cioè non potete presentare Presentarmi un coso così Madonna No Sì ero concentrato sul robo E non Vai prendiamo Ecco E non ho visto che ero avvelenato Oh Eh ma io devo andare di là Bene Intanto andiamo qua Voglio andare qua Devo prendere quel robo Sì lo so Mi avveleno Fa niente Oh Un'armatura Bene Va ancora Ok Però Secondo me Per raggiungere Quella torre Si Bisogna andare All'altro falò Perché da qua C'è bisogno Superare Sto mostro Poi c'è Tutta la melma Cioè poi Ho paura Forse mi ha visto Almeno Scusa Dietro l'albero Sto fermo Però non è mica brutto Cioè Cioè è brutto Ma dico Ha fatto bene Cioè Io corro Corro No qua non posso correre No ma lei Non mi ha visto Lei non mi ha visto Non mi sta vedendo Dai Dai Madonna Ecco Eh lo sapevo io Lo sapevo Ah ok Sì Ovviamente Ritorno qua L'ultimo falò Che ho acceso E vabbè Adesso no Proverò A fare il giro E vediamo Se riesco a recuperare Anche le anime No Volevo scendere Sì Vabbè 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 Grazie.